Ciao ragazzi, benvenuti alla Scuola Tao. Parliamo del massaggio connettivale. La parola stessa richiama al tessuto connettivo, una tecnica di massaggio che va a lavorare su tutto il nostro tessuto connettivo e vi posso garantire che di tessuto connettivo nel nostro organismo ce n'è veramente tanto e ovunque. Voglio dirvi che questo corso diventa di vitale importanza quando andiamo a fare tutti quei trattamenti con persone che hanno il loro tessuto rigido bloccato. Non possiamo partire dal presupposto di fare un allungamento muscolare relativo alle semplici fibre muscolari ma dobbiamo acquisire la conoscenza di questa tecnica meravigliosa che va a distendere, elasticizzare, vascularizzare e portare ossigeno sul tessuto connettivale. Questo fa sì che creiamo un processo, un'anticamera di distensione che ci permette di lavorare in modo migliore anche sulle parti muscolari sottostanti che anche queste contengono tessuto connettivale. Quindi cosa dire? Diciamo che questa tecnica di massaggio è un passaggio obbligatorio perché con essa andiamo a creare un'anticamera di lavoro molto importante per poi andare a chiudere con altre tecniche di lavoro che può essere uno stretching, un massaggio sportivo, un decontratturante e tante altre ancora. Corso di due giorni intenso, il corso comprende anche una parte relativa al connettivale riflessoio. Andremo cioè a lavorare con i segmenti metamerici tra vertebra e vertebra, cosa che vi spiegheremo meglio nella teoria del corso. E poi come sempre sui lettini a protocollare la parte pratica di questa tecnica indispensabile tra le conoscenze di un massaggiatore.